buonasera benvenuti all'episodio numero 125 della 400 live questa sera si parla del nuovo attore che interpreterà superman che purtroppo non è ben affleck e ci dispiace un sacco perché vedere ben affleck che fa sia superman che batman contemporaneamente sarebbe stato bellissimo e invece niente anche questa volta non è lui e non sarà nemmeno nicolas cage che era l'altro sogno che avevamo e pazienza vi sveleremo chi è soltanto dopo la sigla mazzate ed esplosioni smitraglie e pallettoni marmellata di cepponi e di 400 calci eccoci qua luotto sei in muto ok no non sono in muto ti sbagli ero andato a chiudere la finestra perché come sempre passano cose e perso passa all'esercito molto bene niente questa sera io non vedo l'ora di parlare super ma però abbiamo tante notizie da darvi e direi di partire con quella purtroppo meno bella è stata confermata la scomparsa di giulian sands che eccolo qua se ricordate giulian sands era era scomparso nel senso che non si sapeva dove fosse realmente sei mesi fa era scoperto nel senso letterale della parola e purtroppo è stato confermato quello che si temeva già sei mesi fa quando era partito per una per un'escursione in montagna e dopo sei mesi non era ancora tornato o qualcuno ha iniziato a dire esatto escono purtroppo è stato confermato che è rimasto vittima di di una frana mi sembra di capire che che erano cose che erano successe insomma nella zona in cui lui si era recato c'erano state frane c'erano stati grossi problemi di di clima che tra l'altro avevano reso difficili le ricerche e si è andato così giulian sands che oserei dire è uno dei volti più caratteristici degli ultimi trent'anni cinema era veramente una di quelle persone che la vedevi la riconoscevi all'istante non è neanche come si dice di solito dei caratteristi quella faccia che la vedi dici e quello l'ho già visto da qualche parte ma non mi ricordo lui invece ti ricordavi anche il nome lui lui aveva un nome facile da ricordare assolutamente era talmente e come dicevamo prima che iniziasse la trasmissione poi vai a guardare i film effettivi che ha fatto e nei ne abbiamo visti pochi in realtà sembra di aver visto però sembra di averlo visto ovunque in quel decennio e mezzo lì sì infatti adesso chiedo ai nostri gentili lettrici lettori di citare i vostri film preferiti di julian sands io quando sono andato a ricontrollare oltre a ricordare i due film su warlock lo stregone che non è che sia famosissimi però erano dove lui era protagonista e insomma sembrava un ruolo fatto apposta per lui e quindi lo si ricorda sempre con affetto anche se non li rivedo da un sacco forse dovrei recuperare forse il film più mainstream che ha fatto è arachnofobia dove collezionava ragni che è un altro film che non rivedo veramente da una finita ma lo ricordo molto 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 carino e vorrei ripassarlo io arachnofobia me lo ricordo perché era il mio regalo in vhs di compleanno alle medie quando non sapevo cosa regalare a qualcuno e c'era la festa di compleanno regalavo la vhs di arachnofobia non male questo c'è senza tener conto che magari avesse veramente paura dei ragni sì infatti o mi dicevano grazie mille oppure mi dicevano vaffanculo l'ho visto e ora sto malissimo tra l'altro un film che ricordo proprio appunto perché funzionava un sacco contro chi era arachnofobico io non lo sono però c'è chi era arachnofobico quello che si era veramente il film più spaventoso della storia del cinema già il titolo gli spaventa esatto che non è scontato come sembra sinceramente tanti film giocano su cose che dovrebbero essere spaventose poi non sono effettivi quando invece lo era comunque tanto mark holland cita gothic e doctor and the devils gothic in effetti non era male non so c'è penso che citerete tutta la opera di argento il fantasma dell'opera di argento si è l'altro che mi ero segnato anche se di mano ce l'ho ce l'ho l'immagine si capisce che è dario argento nella tarda fase della sua carriera quando è forse l'unico film dove giulian senza i capelli brutti sì e detto da uno che aveva i capelli cioè che riusciva a portare bene dei capelli orrendi era uno delle delle persone che meglio portavano una stempiatura già iniziata in giovane età esatto esatto e l'altro che mi sembra che vi abbiate già citato nei commenti esatto lo cita sblog oltre a arachnofobia c'è boxing elena che invece quello è un è un mio cult assoluto ed è un film che ci vuole un coraggio così a fare un giorno penso che troverò una scusa per parlarne perché un altro di quelli che ci sarebbero un miliardo di cose da dire sia sul film che sulla sua storia dietro la produzione tra l'altro ecco quello è un film che da un lato vorrei molto rivedere perché non me lo ricordo assolutamente dall'altro un po paura rivederlo lo so io la prima volta che l'ho visto è sembrato tragico all'istante per cui difficile che possa essere peggio di come lo ricordo cioè è veramente quello che ti può aspettare da una regista di 18 anni sinceramente come metterla era davvero così giovane aveva 18 anni era la figlia di lynch aveva 18 anni e non sapevo davvero che avesse quell'età cado dal pero forse io ero un po più giovane e quindi all'epoca i 18 anni mi sembravano già super maturi che male c'è esatto no a dirlo oggi 18 anni c'è per ruolo da protagonista e poi pur di non girarlo si era sobbarchata una bancarotta e però tantissime altre cose sicuramente non sono altrettanto famose ma come si gestisce su set una regista completamente inesperta e così giovane sicuramente sono un sacco di di storie la cosa che mi fa piacere comunque jennifer lynch dopo non ha smesso ha continuato a girare altri film e ce n'è almeno uno di cui non mi ricordo il titolo ma ricordo che c'era vincent donofrio come protagonista che non era affatto male adesso cerco di recuperare il titolo al volo è un film che avevo visto al frayfest una decina d'anni fa e si chiamava lo dico subito chained c'è troppo super generico però non era malaccio non era male e così dispiace dispiace un sacco questo tra l'altro questo modo strano di andarsi appunto ma che ci vuoi fare direi di passare quindi alla notizia della settimana che è james gang che finalmente ha deciso il nuovo attore che farà superman e purtroppo faccio vedere non è ben affleck e la cosa di ben affleck mi fa sempre ridere perché ben affleck era andato a letto anche con la mamma di superman non aveva solo fatto superman è andato a letto con la mamma di superman una cosa che mi ha sempre fatto simpatia ai tempi di batman contro superman e vabbè c'era proprio tutta una storiaccia si tenevano la mano era quella cosa della rivalità tra batman e superman la poteva giocare un po' meglio da questo punto di vista e comunque hanno scelto un tizio che si chiama david corrensworth ed eccolo qua che è praticamente identico a enrique avril tranne che non ha ancora fatto palestra hanno dato alla all'intelligenza artificiale una foto di enrique avril e una foto di un disegno di clark kent gli hanno detto ci fai una faccia così ed è uscito questo personaggio è uscito questo questo signore che però ricorderete spero in uno degli horror più belli che ho visto quest'anno che è pearl ovvero il prequel di x di tai west sempre girato da io l'ho visto non mi ricordo però di questo per di questa personcina è il tito che faceva il proiezionista che lui è il proiezionista di pearl quello che attira pearl nella cabina proiezione poi gli fa vedere i porni quindi avremo un che non so un clark kent un po' più proibito del solito non so non c'ho idea però no mi sembra la gente lo chiama per per chiedergli aiuto e lui arriva e gli fa vedere i porno e lui li introduce ai porni del primi del novecento senza salvarli poi si limita a far vedere quello e poi li salva e poi da queste dritte ti consiglio gli allunga filmina in pellicola il super 8 le pizze ma o probabilmente si era proposto al al daily planet come recensore come invece che fare il giornalista di cronaca lui faceva recensioni dei film dei film dei film osè sul daily planet non so cioè avendolo visto in un allora innanzitutto parto più preparato rispetto a ericaville perché non mi ricordo se avessi visto qualcosa di ericaville prima di vedere superman forse immortal che non ricorda nessuno immortal era una specie di fotocopia di 300 o comunque un film che cercava di infilarsi in quel filone e di cui tutti si sono dimenticati sono dimenticati veramente tutti non ho mai più sentito parlare di immortal dopo la sua uscita al punto che la mia faccia in questo momento è proprio quella di quello che si è dimenticato di immortal sì allora mark holland ha visto al cinema immortal pure io per mestiere perché abbiamo coperto sui calci e invece scorre sono preparato non ero preparato sul nome perché non me l'ero segnato però scontento l'ho visto in un film me lo ricordo mi è sembrato un bravo guaglione niente da niente da dire accidenti che bravo chissà che che film farà in futuro però sembra preparato il giusto ecco e mentre ora faccio una domanda trabocchetto a me va un po' a tutti non so se siete preparati su chi interpreterà lois lane sì e rachel brosnan e rachel brosnan e la domanda trabocchetto è io so chi è so che ha fatto la favolosa mrs maizel però da lì al anche solo pensare di guardare io ho visto la prima stagione e lei è molto brava poi ho visto anche fare la host del saturday night live e non era malvagia potrei averla vista lì ma non mi ricordo in generale sono sono contento e lei mi piace sì no lei è famosa tra l'altro c'è penso di aver trovato il motivo per cui l'hanno scelto ovvero rachel brosnan ha vinto il piccolo daily planet esatto ha vinto il premio del daily planet quindi era raccomandata per il ruolo di lois lane per il resto no cioè io maizel proprio di quelle cose infatti nessuno sia stimo a distanza ma non sento nemmeno il bisogno di farmi un'opinione sì ma non credo che nessuno ti abbia detto non anni devi devi troppo guardare non è molto nelle tue corde lo dico mi sento mi sento un po' a svantaggio rispetto a tutti gli altri che coprono questo tipo di notizia tra l'altro pare che ora credo che sia finita la serie con la quinta stagione io mi ero fermato alla prima onestamente però pare che sia una di quelle serie che sono andate avanti in crescendo e è piaciuta molto fino alla fine questo me l'ha detto quantum ok ok me lo segno una cosa che sta dicendo mister rob forse avevi visto la fredda luce del giorno con cavilli insieme a bruce willis e arrivo a ricordarmi che cos'era perché la fredda luce del giorno questo titolo orribile era il film girato da mabrukel mccree regista di jcvd subito dopo aver avuto successo con jcvd subito dopo è sbarcato hollywood ha girato questo film con enrica ville bruce willis di cui si ricorda soltanto mister rob penso penso di la gente se lo ricorda ancora meno di immortal in generale e mister ho comunque contentissimo anche di di rachel brosa siamo molto contenti tra tra le attrici che avevamo proposto mi sembrava quella comunque con più curriculum quindi sì e lo dico senza sapere chi fossero le altre che guarda le altre non avevo mai sentito nominare sinceramente e mi sono anche indicato di segnare comunque molto cioè rispetto a quello che abbiamo rischiato per superman dove mi ricordo purtroppo che fra i candidati c'era anche nicolas hault che lo ricorderete ricordatelo per mad max fury road ma cercate di dimenticarlo come renfield perché renfield era un aspirapolvere di carisma e hanno ancora visto renfield renfield va visto per nicolas cage e basta sì c'è nicolas cage che rende il film interessante e poi c'è nicolas sal dall'altra parte che cerca di contrastarlo levando l'interesse che fin si era guadagnato fino a quel momento questa è un po la sintesi del film e l'altra cosa che ho scoperto di rachel brosan è che lei ha un lei a cui si dice un ha dei conti in sospeso con caprotti io ho scoperto semplicemente per questa foto se si vede con caprotti si mandano a quel paese a vicenda non so perché è mi dispiace in questa cosa che ci dispiace molto però spero che comunque il film non sarà bandito da caprotti per questo problema speriamo di no ovviamente so che caprotti ci teneva a fare giorel che aveva aveva provinato ai tempi di marlon brando però il miglior aneddoto su henry cavill ultimamente è che c'è un bulldog francese che è innamorata di lui e guarda the witcher alla televisione e e la noi hanno invitato questo bulldog francese a alla prima di non so cosa e finalmente era in cosplay da the witcher questo cane e finalmente ha potuto incontrare henry cavill che le ha fatto le carezze adesso devo googlare bulldog francese rory si chiama rory bulldog henry cavill perché non esiste che racconti roba del genere e non trovo delle foto rory che miseria è favoloso adesso tempo di salvare la foto però è effettivamente eccezionale ma hai trovato anche la foto in cui sono insieme o solo il cane perché ho trovato solo la foto col cane ma perché perché devono trattarli così è ovviamente per farsi poi invitare alle prime delle vedi c'è porca miseria si sta caricando perdonami la cosa un po' più complessa è previsto ce l'abbiamo eccolo qua ce l'abbiamo eccolo perché vedi che ha tutti i gadget di henry cavill mi sembra anche molto serio ci sembra molto molto attento sì no perché un amore non è un amore di quelli sguaiati lo guarda sognante in televisione e anche quando ci sono incontrati è rimasta lì molto senza parole ma mi sembra proprio il tipo di di sguardo che poi dopo aver visto la puntata va a scrivere le recensioni sì 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 va a scrivere delle fan fiction scrive delle fan fiction serissime scrive delle recensioni molto circostanziate cioè mi sembra mi sembra una cosa ottima i cani di the witcher bene perché di aver detto qualcosa anche su superman no l'altra cosa che vale la pena dire probabilmente è ricordare un po il progetto del nuovo superman come ricordare quello che sappiamo fino ad oggi non si sa moltissimo si sa che si chiamerà superman legacy che è scritto e anche diretto da james gunn che vedrà un superman un po più giovane che ancora deve venire a patti tra il suo lato marziano di krypton e il suo lato umano e cerca di non posso farci un'avventura dove superman va a menare dei mostri e basta cioè si infatti spara il laser tutto il tempo non si vedono mai gli occhi esatto dagli occhi e basta su 45 finché l'avversario che gli danno è l'ex luther si basta sai come quelli che c'era uno su youtube che il suo gimmick era che frullava le cose e prima di frullarle dovevi indovinare se la cosa si sarebbe frullata oppure no si è una tazza di ceramica o will it blend ecco lui le fa la stessa cosa però con le monta con i monumenti famosi will it melt e gli occhi laser e e così almeno distrugge delle cose non capisco perché giustamente ora dobbiamo avere il cioè poi mi fido e di gun mi fido a occhi chiusi però sì volevo solo che la il il claim per questo film fosse superman distrugge un sacco di cose sì cioè l'altra domanda che mi faccio è superman finora è sempre stato serissimo con l'eccezione di superman 3 che non era un film di superman era un film con richard prior sostanzialmente che non è male cioè sapere che esiste una cosa del genere e quindi non so se aspettarmi che james gunn fa il suo primo film serio o se trasforma superman in commedia o che farà una cosa un po e un po e però sì è una cosa nuova per lui almeno sicuramente sarà un superman più più leggero come come personaggio più alleggerito però sarà sempre superman se non la gente gli stacca gli occhi dalla faccia al primo film ma staremo a vedere al momento non ci sono mi sembra altre notizie di casting a parte i due protagonisti non neanche non si sa nemmeno chi sarà il cattivo in questo momento non si sa nient'altro era solo bellissima scena di qualche tempo fa anche però secondo me ne avevano già parlato ovvero quella di james gunn che pubblica su un tweet la foto della sceneggiatura appena scritta scrivendo una roba dicendo l'ho finita ed è stata approvata e so tu corri grazie al cazzo sei tu il capo della disini congratulazioni approvata dal capo esatto nel frattempo ericavista ancora cercando di montare il suo computer non ci salta fuori beh non è facile montarlo considerando che nella non c'è niente dentro il cassone lì quindi c'è solo tipo una catena di bicicletta mi sembra di vedere infatti secondo me se ho sbagliato ha montato una catena di bicicletta va bene sono uscite altre notizie interessanti questa settimana ma prima volevo raccontarvi del london action festival è successo che la settimana scorso sono andato al london action festival se non ricordo male il secondo london action festival secondo esatto seconda edizione e la prima ve l'avevo raccontata l'anno scorso ed era quella che aveva come ospite principale john mc tiernan che ha fatto un q&a dopo die hard e dopo predator quest'anno l'ospite l'ospite principale era steven de sosa sceneggiatore di die hard e sceneggiatore commando e santo patrono di valverde in quanto colui che ha fatto conoscere valverde al mondo ma me lo sono perso perché lui arriva proprio mentre avevo portato le vacanze in compenso sono andato alla giornata precedente e che aveva due o tre panel in effetti interessanti una era una proiezione di draide 2 con gareth evans che faceva un q&a fatto un q&a abbastanza lungo la cosa principale che ha raccontato è che più o meno lungo del film stesso un po un po più corto del film stesso però ti interesserà sapere che gareth evans oggi è il primo che ammette che forse lo si sarebbe potuto accorciare si è riguardato ed è stato deciso di essere onesto con se stesso si è riguardato devo dire che in certi punti mi sembra di essere stato un po troppo forse un po troppo autoindulgente e allora gli ha chiesto per esempio cosa cosa avresti fatto diversamente e lui ha detto beh c'è tutta la scena con yayan ruyan per quanto voglio un bene del mondo a yayan ruyan è chiaramente una parentesi che non c'entra niente con il resto del film e insomma l'ho fatta perché perché volevo metterci anche lui in qualche modo però insomma se la si tirava via il film non ci credeva niente attenzione c'è un abbonamento l'innazza grande grazie mille per l'abbonamento annazza san per il settimo mese consecutivo siamo assolutamente onoratissimi ricordo super brevemente che funziona l'abbonamento l'abbonamento funziona che ci fate contenti fate contenti pulsa doom grandissimo e recca proti mentre sta mandando mrs maizella col paese e poi non vedete le pubblicità durante la diretta e soprattutto quando il giovedì assegniamo il premio jimmy bobo al nome più buffo della settimana che abbiamo trovato del film di cui parliamo quella settimana il vostro voto vale doppio tra l'altro sta succedendo dopo anni di jimmy bobo una cosa molto bella per cui quando resto a vedere i titoli di coda al cinema tipo l'altro giorno che vedevo flash riconoscevo dei nomi di vecchi jimmy bobo indicavo facendo a lui lo so chi è carlo scaduto no è vero io ci ho fatto caso purtroppo dimenticato il nome ma c'era una tipa che avevamo candidato al jimmy bobo che aveva un ruolo assolutamente minore non mi ricordo quale film a settimana dopo l'ho beccata nei titoli di coda di fast x come truccatrice personale di vin diesel adesso mi tocca recuperare chi era purtroppo dimenticato però però è stato un momento molto bello e tornando a london action festival quella è stata la missione insomma più interessante forse che ha fatto gara e tema su the raid 2 incluso ha detto un po in auto indulgente anche il fatto fighissimo per carità però era proprio una menata super teorica ovvero questa cosa questa idea che jimmy rujan avrebbe dovuto fare questo mega massacro con un macete in una mano ma che aveva deciso che il macete avrebbe usato solo per l'avversario finale e quindi ha messo ico e jimmy a inventarsi delle coreografie con una mano sola vabbè cioè è venuta una scena fighissima sì infatti però insomma era giovane gli è venuto quest'attacco alla zack snyder di metterci tutto quello che gli veniva in mente e cose che capita e gli essi posso perdonare perché almeno erano fighe almeno erano davvero fighe eccetera e l'altro panel che ho visto e di cui ho preparato una foto un panel con i cattivi di john wick e quindi mark da cascos e scott adkins che hanno parlato un po di dalla loro esperienza a girare john wick e anche un po della loro carriera e mark era carichissimo sembrava la prima volta che andasse un panel in vita sua e probabilmente è così e forse la cosa più simpatica che è stata detta e cioè al di là di lui che ha raccontato mark da cascos che il personaggio di zero in john wick 3 molte erano effettivamente idee sue a cui chad stais che ha detto o non l'avevo pensato così però mi sembra che funzioni ok e una delle cose più simpatiche che ha detto è stata proprio la caratterizzazione del personaggio la prima scena che ha fatto con kianu reeves è stata quella di quando zero incontra kianu reeves al continental e quindi è territorio neutro non si possono ammazzare a vicenda ma si vedono per la prima volta e sullo script c'era scritto che zero doveva dire a john wick sono un grande fan che tu lo leggi su carta e ti immagini la cosa sborona che dice il cattivo per per insomma per cominciare a fare i cosiddetti mind games per cominciare a confonderlo e quindi te l'immagini data come le dicono di solito i cattivi cioè un po sborono un po arrogante un po per fare il furbo e invece mark ha detto che l'ha detto è un fan un fan e quindi è un fan boy di john wick ha cominciato a farlo proprio come fan nel senso di ragazzino che incontra il suo cantante preferito e ha detto che l'ha fatta così senza preavviso e che che il regista ha detto non avevo pensato esattamente così un attimo è ok e l'altra cosa che gli hanno chiesto com'è kianu reeves sul set e lui ha detto guarda kianu reeves sapete le voci che girano su di lui è una delle star di hollywood più generose umili buone eccetera che si possono incontrare che a quei livelli lì è difficile incontrare qualcuno che ti tratta così bene eccetera per cui quando io ero andato su set di john wick non volevo non volevo conoscerlo troppo perché avevo paura che avrei finito per conoscere i suoi lati negativi io non li volevo sapere e quindi ha cominciato a raccontare questo poi ho detto vabbè adesso vi racconto un aneddoto l'unica volta che l'ho visto un attimo un po così e la scena era che avrebbero dovuto girare l'inizio del combattimento di john wick 3 tipo una sera una sera dopo che kianu reeves aveva lavorato per 12 ore consecutive quindi l'idea che siccome kianu reeves aveva lavorato 12 ore consecutive avrebbero iniziato la scena con mark da cascos ma girando soprattutto le parti con mark da cascos in cui kianu serviva inquadrato ma non avrebbe dovuto faticare all'ultimo momento però il regista ha detto sapete cosa abbiamo cambiato ed abbiamo pensato di iniziare a girare il combattimento adesso vi va bene a tutti e allora marca quel punto ha detto a quel punto visto kianu che ha detto dammi un minuto e poi se ne andati in un angolino ha cominciato a dire dopo un minuto e tornate detto ok è l'ultima è l'unica volta che gli ha visto perdere perdere la calma la flemma esatto anche kianu reeves bestemmia e niente l'altro panel che ho visto invece era un panel che prevedeva tre registi della madonna martin campbell gareth evans e neil marshall questa è la foto e il panel consisteva nel chiedere a ognuno di loro di prendere una scena d'azione da un altro film che fosse la loro preferita e commentarla e martin campbell ha scelto l'inseguimento di braccio violento della legge abbastanza scontato classicissimo e gareth evans ha scelto la sparatoria finale del mucchio selvaggio e nil marshall ha scelto i predatori dell'arca perduta la scazzottata con con il soldato tedesco quello che esce se ne va la camicia non vedeva rifare cazzotti e poi viene viene smazzullato dall'elica dell'aereo è stata una cosa abbastanza simpatica e di quel pannello invece l'aneddoto migliore che c'era appunto una domanda dal pubblico è stata uno che si è stato detto chi è secondo voi il miglior regista d'azione inglese di tutti i tempi vivo o morto e poi aggiunto subito secondo me è tony scott al che gareth evans al ruolo ha detto fregato le parole di bocca stavo per dire tony scott e nil marshall ha detto eh sì in effetti è tony scott sì hai già risposto tu e quella è andata così martin campbell non sapeva più cosa dire forse stava per dire tony scott però ha deciso di darsi un tono ha detto per me david lin lawrence darabia film assolutamente fenomenale dottor zivago david lin lui ha fatto quello che doveva riportare la conversazione su binari più esatto e poi non ricordo quali altri hanno citato ha cominciato a sparare dei nomi sono arrivati a citare michael winner la cosa più simpatica è che nessuno è venuto in mente di dire rideli scott vabbè niente questo è stato il london action festival e so che quando me ne sono andato hanno fatto un panel su game of thrones e presentato a sorpresa john snow a cui non hanno fatto il q&a perché tutti sanno che johnson non sa niente e quindi non gli hanno chiesto niente e per il resto niente purtroppo avrei voluto esserci per steven de sosa e non ce l'ho fatta passiamo alla prossima notizia è uscito il nuovo trailer il trailer del nuovo film di liam nison e che se dire la verità è un po di tempo che aveva un mezzo perso di vista perché cominciato a girare però d'azione più o meno tutto il nuovo film genere liam nison telefona sì la cosa bella è che hanno capito finalmente che liam nison si era un po piantato a fare la stessa cosa hanno deciso di giocare su suoi punti di forza per cui il film si chiama retribution ed è un intero film di liam nison al telefono in macchina in macchina esatto e la trama sembra è il classico film di quelli che lui faceva con aum e collet serra invece stavolta il regista non è lui ma è nimrod antal è di una garanzia di qualità esatto che ricorderete per predators e per un altro filmettino aveva fatto subito prima subito dopo predator che era una cosa si terribile però ennesimo film da aggiungere la colonna dei film blindato dice mark holland blindato armor blindato esatto e qui stanno citando loc nei 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 ma in realtà è più speed che è lo che era veramente uno al telefono e basta e l'azione consisteva nel fatto che lui doveva passare dalla telefonata all'altra e si doveva incazzare un po in tutte le telefonate però non è che succedesse della vera azione e anche se era effettivamente girato come un thriller funzionava la grandissima e retribution invece ha una trama più da fin d'azione classico ed è immaginate speed se al posto dell'autobus ci fosse l'utilitaria di limison con gli amison dentro e i figli seduti dietro oppure immaginate phone booth quello con con colin farrell se la cabina telefonica fosse su ruote perché dentro un telefono e una voce misteriosa che gli dice c'è una bomba nella tua macchina non puoi smettere di guidare e ovviamente tutti poi danno la colpa a lui delle cose che stanno succedendo ma lui non si può fermare con la macchina e non può chiedere informazioni su su dov'è e spiegare la situazione ci sono anche i suoi figli in macchina e questo è così allora il punto è il trailer è il classico trailer che ti racconta a metà film e spoiler almeno un paio di svolte per cui adesso ve le spoileriamo perché comunque sono nel trailer e se hanno deciso che vale abbiamo deciso che vale allora la prima cosa che dice il trailer è che a quanto pare una delle regole è che se loro si alzano dall'auto quindi cercano di scendere roba simile quello è il trigger che fa scattare la bomba nell'auto che quindi anche se ti chieni in avanti per dire una cosa a chi guida nell'orecchio rischia però come vedete da questa foto lui è in macchina da solo quindi a un certo punto troveranno in modo di far uscire i bambini primo spoiler che il trailer ti butta lì fischiattando quella è una foto tratta del trailer sì cioè lo si vede nella parte finale nella seconda parte del trailer si vede e l'altra cosa che mi ha fatto l'altra scena che mi ha fatto ridere del trailer è questa allora inizia e raccontando di tutta la premessa e per farti capire che la minaccia è seria praticamente il tipo al telefono fa esplodere un'auto di fianco quella di liam nison solo perché liam nison aveva riagganciato il telefono sì e che è una cosa molto simpatica da che si deduce che ha per sicurezza minato tutte le macchine lungo il percorso per farglielo esplodere esatto metti che prende su 100 metri più avanti bisogna che faccio minare un 100 metri di auto che non so mai quando prende su magari non è colpa sua magari sta girando dove non prende quindi c'è uno che ha calcolato molto e no l'altra scena che ha fatto ridere è quella per far vedere le prime prove a cui costringe liam nison praticamente lui lo lo dirige verso l'auto dove c'è dentro metto modin che tra l'altro mi sembra troppo sprecato per fare la comparsa a caso e poi sostanzialmente gli dice ammazzalo oppure faccio saltare l'auto e quindi fa del liam nison che non lo vuole ammazzare metto modin che dice ma cosa t'ho fatto di male eccetera eccetera e però ti fa anche vedere che alla fine liam nison decide di non sparargli e scoppia la macchina di killer che fa scoppiare la macchina di metto modin quindi quindi di nuovo non si capisce da una parte hai il piano inutile se da parte hai il piano inutile perché chiedere di ammazzare uno se gli hai già minato l'auto da solo dall'altra il liam nison che nonostante tutto ha deciso piuttosto che sparare a questo moriamo tutti figli inclusi tra l'altro poi dopo si vede qualcuno che mi pare quello al telefono che gli dice adesso tutti pensano che sia tu il bombarolo e infatti la polizia insegue liam nison quindi oltre a esserci un ulteriore sviluppo di trama rivelato nel trailer da pensare che voglia questo misterioso criminale voglia incolpare liam nison per qualcosa se esatto poi comincia a sparare le tante alla fine comincia a raccontare letteralmente tutto il background del protagonista è veramente classico trailer che racconta praticamente tutto il film però io mi ero salvato questa immagine perché è parecchio tempo che non vedo un film con liam nison che non sia un action e negli action liam nison è sempre piuttosto con lo sguardo di pietra e recita tutto con la voce molto profonda ma è sempre piuttosto impassibile per cui vederlo con questa espressione terrorizzata è basito è assolutamente basito è sconvolto come non lo vedevo da forse dai tempi di darkman quindi no fa piacere vedere che è ancora in formula l'altra immagine che avevo salvato è questo qua perché mi è sembrato un potenziale premio bravo tra l'altro lui ora con questa bocca non lo riconosco ma credo sia stewee di succession almeno mi sembra molto stewee di succession e un momento dopo esplode anche lui e lo sappiamo anche nel trailer esatto ma l'altra cosa è questa il killer è uno dei pagani di wicker man questa l'altra cosa che il trailer ti svela alla fine lo vediamo dalla macchina perché devo raccontare tutto non c'ho più pallida idea è uscito un altro trailer interessante di un film che si chiama the dive e l'uoto mi ha detto tu ne sai qualcosa per cui so qualcosina è il l'opposto speculare di the fall anche nel titolo pratica quindi è traliccio all'incontrazione e su subacqueo perché queste due sorelle e almeno nel nel film originale perché questo è un remake erano sorelle non so se siano sorelle anche nel remake esse sono delle subacque e vanno giù laddove se ricordate in traliccio andavano su stavolta vanno giù e una delle due sorelle resta impigliata sotto un sasso e non può più non riesce più a risalire e l'altra sorella e quindi deve uscire cercare il modo di salvare la sorella secondo ci sono ovviamente sempre meno problemi sempre più problemi e sempre più limitazioni che siano l'aria che siano il problema dell'embolia e quindi c'è da aspettare sempre più tempo per risalire e ridiscendere e poi non mancano le gli attrezzi necessari poi lei torna su e non c'è più una cosa che aveva lasciato eccetera quindi è io ricordo il film originario che avevo visto è un film norvegese che si chiama Breaking Surface di tre anni fa che era piuttosto divertente era molto 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 secco e giocava abbastanza bene su su questo unico scenario e sul fatto che questa aveva sempre più difficoltà e la situazione era sempre più esatto d'un boli che quello Breaking Surface sempre giocava bene su quest'unico scenario e su gli elementi che venivano a mancare uno dopo l'altro per rendere il salvataggio sempre più difficile questo è un remake sta per uscire non in Italia credo almeno per il momento ad agosto e non conosco né il regista né le attrici anche se una delle due attrici l'avevo vista in un filmuccio carino di si trova su Amazon Prime che si chiama Blow the Man Down e io Breaking Surface l'ho visto qualche tempo fa mi ricordo benissimo una scena che mi aveva fatto impazzire in cui uno dei primi tentativi te lo dico perché non è spoiler particolarmente uno dei primi tentativi della sorella che si può liberare può tornare in superficie quando torna in superficie loro ovviamente sono in una zona remota non c'è nessuno che chiedere aiuto però va e trova una casetta nella casa non c'è nessuno lei entra forza la porta spacca i vetri fa casino non trova quello che cercava le arriva il cane addosso lei lo pugnala e poi scappa e va via quindi e poi quella casa non si rivede più quindi c'è un altro film di una persona che era uscita a parte la prossima passeggiata in mare poi torna trova la casa distrutta e il cane morto per nessun motivo e basta e poi non saprà mai perché questi sono cine universi potenzialmente interessanti figli collegati che sono di genere completamente diverso ma hanno questa scena in comune esatto e mark holland dice che su prime forse anche io l'avevo visto lì e lo potete recuperare quando ci sarà uscirà questo the dive che immagino è un film tutto sommato facile da 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 remakeare anche se se è uguale al primo funziona comunque e poi ne esce un bel un bel dittico con the fall and the dive che si sale si scende a altezze e profondità estreme e è un bel double bill non è male cioè ma anche il double bill con traliccio traliccio è poi il suo opposto esatto e anti traliccio esatto cioè io stavo immaginando tipo del slogan tipo avrete le vertigini ma al contrario ma guardando verso l'alto quando mi hai detto traliccio al contrario hai detto queste vanno in fondo al mare e sono aggrappate a qualcosa e devono rimanere aggrappate se no cadono in su verso l'alto esatto in realtà è 127 ore con james franco se james franco avessi avuto un amico che avesse avuto un amico che riusciva a uscire a combinare qualcosa penso alla fine la cosa più interessante è appunto questa svolta che il trailer ti fa già vedere dove una riesce a salire si ha comunque i minuti contati per cercare un qualsiasi cosa che possa aiutarle in un posto che pare una specie di isola deserta se la deve anche un po' inventare diventa deve fare delle cose un po' alla macgyver quando è su perché non c'è veramente niente ci sono delle cose forse utili mi pare nel portavagagli ma il portavagagli è chiuso le chiavi sono giù e ogni volta deve rischiare l'embolia se sale se scende eccetera quindi interessante quindi uno invece vuol vedere tre film può vedere traliccio 127 ore esatto non male the dive che vi faccio vedere un'altra immagine non so perché questa sia l'immagine con cui viene pubblicizzato maggiormente forse per far capire che la situazione è molto drammatica ovvero questa sì eh c'è starnutisce per mostrare questo è l'immagine che il reparto marketing vuole che voi vediate per interessarvi al film è che l'acqua è molto molto salata quindi quando esce ha gli occhi irritatissimi è veramente una difficoltà dietro l'altra però sì esatto ma questo sembra il classico film che mi ritroverà al frightfest probabilmente sì inizio già a puntarci esatto eh mentre un altro trailer abbastanza simpatico che è uscito questa settimana è di un altro film che si chiama eh the flood siamo oggi stasera tutti i titoli molto lapidari esatto titoli semplici the flood indovinate di cosa parla the flood parla di un allagamento e nello specifico è un tizio che gli è venuto a questa idea geniale e se facessimo distretto 13 di carpenter ma comico codrilli questa è l'idea geniale che è venuto a questo tizio quindi distretto 13 incontra crawl di alexandra già esatto allora fatemi recuperare il cast tecnico di questa interessante opera il regista si chiama brandon slegol so che dirti l'altra cosa che no so cosa dirti brandon slegol prima di fare il regista era un cantante metal anche se non hanno il coraggio di dire in quale band però ho visto che c'ha dei titoli non male in carriera titoli di dischi o titoli di no titoli di film è uno di quelli il classico regista come ce ne sono ultimamente nei film a basso costo è quelli che ti fanno tipo un paio di film all'anno ha girato un film su Charlie Manson e uno sulla Dalia Nera uno sull'area 51 e uno su Charlie Manson e la Dalia Nera esatto che si incontrano nell'area 51 una teoria del complotto è un altro che si è lanciato a fare una biografia di Charlie Manson piena di gente che non ho mai sentito nominare Dalia Nera non sto neanche a guardare mentre in The Flood c'è niente meno che il nostro amico Casper Van Dien eccolo lì che ha ancora una bella mascella ha ancora una discreta mascella ma non so se vi è capitato per sembra cosa qui come si chiama? quello di ricominciamo chi? Pappalardo? sì ah ok può essere buono la versione Big Jim di Pappalardo no a me è capitato di vederlo in un filmettino di arti marziali abbastanza inutile ma lui si divertiva un mondo e mi sembra che si è diventato un attore generalmente migliore rispetto a come ce lo ricordiamo in Starship Trooper cioè nel senso di uno che recita anche uno che è una specie di adesso dico una cosa veramente terribile ma tipo un Eric Roberts del discount se una cosa del genere può esistere però immaginate uno che ha più o meno quei tipi di personaggi lì dove fa un po' il carismatico, il po' il cacarone eccetera però meno bravo e in meno film però fa un po' quel tipo di ruoli però insomma la storia è quella di una caserma di polizia ci sono dei criminali che sono stati messi in galera c'è una poliziotta che deve fare la guardia al certo punto però scoppia il mega temporalone si allaga tutto e arrivano i coccodrilli in galera per cui i poliziotti e i criminali devono in qualche modo collaborare per uscire vivi ora il trailer è abbastanza furbo da non farvi vedere il coccodrillo però abbiamo un'immagine dal poster un mezzo coccodrillo secondo me non è così bello nel film non penso sia così bello perché mi sembra disegnato bene qui ma infatti usano molto l'acqua per nasconderli il più possibile io credo penso che nel film useranno parecchio l'acqua per nasconderlo questa è un'altra immagine questa si è presa dal trailer ma dove la sede è veramente velocissima questa è un'altra immagine ancora la scena dove il coccodrillo suona il campanello e la poliziotta dice non mi fido e decide di non farlo entrare e quindi il coccodrillo tocca di trovare altri modi però sì sembra simpatico alla fine l'idea di unire distretto 13 e crawl non è per forza la più scottata poi ricordiamo cioè se vedete il trailer ve ne accorgete subito è una cosa fatta con pochi 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 soldi siamo a livello Asylum se non sì ma è sembrato più dignitoso cioè pochissimi soldi per la fine cioè se il tuo nome il nome più grosso che ne è Cast è Casper Van Dien non si è messo benissimo il curriculum del regista non mi sembra esattamente particolarmente dignitoso però per quello che a me è sembrato più simpatico e dignitoso di quanto mi aspettassi sì da dove quelli degli Asylum iniziano a sembrare cioè mi sembra che i film dell'Asylum e simili si vedono che sono poveri all'istante ma magari iniziano anche a marciarci sulla loro povertà per fare un po' le barzellette di se stessi questo cerca di spacciarsi come film serio laddove l'Asylum probabilmente ti farebbe vedere il coccodrillo fatto malissimo perché sa che ridi questo invece te lo tangono nascosto e il sospetto che sia una poverata ce l'hai soltanto proprio quando cominci a vedere il curriculum delle persone coinvolte quindi magari è anche una roba simpatica da vedere alla fine questo è quanto e questo è quanto l'ultima notizia che ci siamo segnati per stasera giustamente iConcept è il proprio classico iConcept l'ultima notizia che mi ha segnato per stasera è una notizia che penso che vi daremo ogni sei mesi da qua fino alla fine dei nostri giorni ovvero di nuovo Todd McFarlane ha dichiarato alla stampa che il film di Spawn è in lavorazione ok ha detto per lo dice due volte all'anno due volte all'anno convoca la stampa ci puoi regolare l'orologio ci puoi regolare l'orologio più o meno più o meno dal 98 forse quest'anno cade esattamente cadono i 25 anni dalla prima volta che Todd McFarlane ha annunciato un nuovo film di Spawn e stavolta gli ha dato manforte anche Jason Bloom non so se ricordate le ultime notizie sul film di Spawn ma c'era appunto che era stata questa svolta clamorosa per cui Jason Bloom era intervenuto e si era detto disponibile lui a finanziare il film di Spawn e addirittura era a bordo Jamie Fox nel ruolo di protagonista ora le ultime notizie che si sanno è che ci sono aggiornamenti costanti e però sono sempre al ribasso per cui sei mesi fa Todd McFarlane ha detto sì il film di Spawn sta andando avanti siamo tutti carichissimi e però Jamie Fox non è più del non fa più parte del progetto a questo turno Jason Bloom in persona ha detto sì il film di Spawn sta andando avanti siamo tutti mega ottimisti ha addirittura azzardato che verrà pronto per il 2025 se tutto va secondo i piani che come sappiamo da 25 anni non è caso e l'aggiornamento è che non si sono ancora accordati sulla sceneggiatura questa è quello che ha detto però tra l'altro Jamie Fox sta male ora no? Jamie Fox non l'ha messo benissimo ho messo un coccolone sì non sono super aggiornato sulle sue condizioni ma ha avuto dei gravi problemi di salute da cui si sta riprendendo lentamente insomma quindi anche avesse voluto farlo in questo momento non è esattamente nelle condizioni l'altro mi pare mi pare di aver capito che Kevin Sorbo ha detto che è stato perché Jamie Fox si è vaccinato che ha avuto questo che ha avuto che ha fatto una tristissima fine l'ultima che sapevo di Kevin Sorbo era l'altro giorno per assolutamente zero motivi mi sono riguardato un vecchio action con Patrick Swayze di quelli di tardissima carriera quelli usciti fuori tempo massimo non so se qualcuno qua dentro si ricorda si chiama Black Dog ed è Patrick Swayze che fa il camionista che è un ruolo in cui non glielo vedi assolutamente che viene pagato tantissimo per trasportare un carico e però lo stesso tizio che gestisce la compagnia dei camion non vuole che lui arrivi in fondo con il carico e cerca di fermarlo durante tutto il tragitto che l'idea non era malvagia perché è sostanzialmente come struttura una specie di Mad Max Fury Road nei tempi moderni un lungo inseguimento col camion con gente che cerca di assalire il camion non fosse che era fatto con pochi soldi e da uno che non gli era venuto in mente di andare a guardare Mad Max per farsi venire delle idee per cui c'hai quella struttura tu ti aspetti delle scene un po' la Mad Max che in realtà non arrivano mai e Patrick Swayze che interpreta un personaggio super generico proprio di quelli che passi tutto il film a chiedere ma perché proprio lui Patrick Swayze non è un eroe action a caso uno che ha una sua personalità ha delle caratteristiche cioè quando ha fatto il duro del Roadhouse hanno adattato il personaggio a lui hanno molto giocato sul sul modo in cui si presentava sul fatto che lui sia un po' più basso sia un po' più caruccio di come ti aspetti un butta fuori qua no non hanno fatto niente per cui sono andate a leggere i trivia e in i trivia ho scoperto che la prima scelta per il ruolo era Kevin Sorbo e ora pensare che Patrick Swayze è la la scelta di scorta di un film ripetato da Kevin Sorbo è una delle cose più tristi che ho letto nell'ultimo mese del resto va va pazienza pazienza va bene direi che vi abbiamo dato tutte le notizie più spersanti della settimana che non è stata per forza la settimana più intrigante dell'anno però sta arrivando l'estate esatto la gente in vacanza però vi abbiamo dato Rory il bulldog francese che ama Enrique era pronto è prontissimo quindi come lo si cerca su Instagram Rory the French Bulldog non so qual è il nome vero però si trova anche perché trovate le foto di Rory e trovate anche la sua critica della seconda stagione di The Witcher e il suo incontro con il suo amore esatto che bello non rimane quindi che darvi gli appuntamenti della prossima settimana giovedì questo lo so io cosa c'è c'è Staglio con la buon costume sono pure io tanto per c'è Staglio in virgola Nanni e la buon costume che parlano di Indiana Jones il teschio di cristallo e di come esso si pone nei confronti di Indiana Jones il quadrante del destino risponderemo a una domanda che è freschissima ma che so che ci chiederemo ogni volta ovvero è peggio il teschio di cristallo permette si di fare già con il quadrante del destino esatto esatto la domanda che speravamo di non porci e che invece purtroppo ci poniamo ovvero è peggio Indiana Jones 4 o Indiana Jones 5 purtroppo siamo nelle condizioni per cui questa domanda ha senso ed è la domanda che ci faremo parleremo a fondo di Indiana Jones e del teschio di cristallo e anche per la prima volta in Eurovisione parleremo di un film che è appena uscito perché di solito abbiamo fatto il gran retrospertivo invece stavolta azzardiamo a parlare anche di un film appena uscito per fare il confronto facciamo vedere i poster che li distinguo a seconda del numero di rughe di Harry Soffor no qua sono nascoste quindi non si vede nemmeno il teschio di cristallo in uno c'è la beffa nell'altro non c'è chi c'è scusa è Bruce Lee l'ultimo a destra a destra con la maglietta con la maglietta non ho gli occhiali però la faccia più grossa è Phoebe Waller-Bridge sì no no molto più a destra in basso nel langrino molto più uno che non capisco se è un calciatore vabbè è un personaggio così a occhio non avendo il ragazzino è il ragazzino con Antonio Banderas no ah no ho capito quello col cappello è l'attore spagnolo che hai testè nominato mentre quello ancora più accanto è il ragazzino il bimbo marocchino come dice Mark Holland ok è lui è lui in persona non era egiziano no era marocchino no ha ragione sono in Marocco lui mi pare quando sono in Marocco chi è che parlava di Egitto era Salla che parlava di Egitto perché è egiziano perché è egiziano è difficile ricordarmi perché l'attore che fa Salla è inglese sì sì però è l'unica però lui è che è talmente talmente forte che continuano ma non solo il punto è che per evitare che venisse accusato di cose strane Joris Davis ha continuato a fare l'egiziano praticamente per tutta la carriera sperando esatto di non confondere l'idea di non attirare domande strane io comunque spero che ad almeno qualcuno di voi compresa la buon costume abbia trovato qualche cioè che ci sia qualcuno che è meno severo di te con il quadrante del destino boh vedremo vedremo ne parleremo ne parleremo giovedì giovedì alle 21 come sempre mentre lunedì prossimo di nuovo l'appuntamento puntualissimo con le news della settimana sempre meno news sempre più estate sempre qualcosa ce lo inventiamo oppure fate una cosa preparatevi delle domande e noi rispondiamo alle vostre domande che è sempre il piano di riserva che funziona preparatevi delle risposte noi cerchiamo indovinare qual era la domanda esatto se siete abbonati preparatevi due domande esatto che abbiano però la stessa risposta così noi possiamo dare una sola risposta se no vale il solito trucco se no pesco una delle news migliori che abbiamo dato negli ultimi tre mesi la ridai ed è un'altra cosa che funziona sempre Gnagni ci ricorda che lo scorso agosto la serie di puntate degli stranissimi che andò in onda per quattro quattro serate di fila di pieno agosto si chiamava era si chiamava estate con i calci esatto che pensiamo di ripetere pensiamo di ripetere sì sì è ancora presto però deve essere ancora più estate esatto facciamo ad agosto ad agosto rifacciamo estate con i quattrocento calci che è esattamente uguale al solito facendo preparare il poster esatto facendo preparare un poster che vi ricorderà quello di Indiana Jones no lo volevo far preparare da quello che fa il poster del cinema all'aperto di Riccione con quella grafica con le palme sì sì sarei contentissimo se fosse vero veramente bello va bene grazie mille quindi per averci seguito un grazie infinito sempre a Cristiano Liprandi e Dario Cogliati per la videosigla grazie al maestro Ludwig van Verhoeven per la trinodia per le vittime di Valverde grazie a Nano World Steel per la sigla classica dei 400 calci e che bello ci siamo divertiti come sempre grazie mille ciao a tutti ciao ciao